Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla Fipili per lavori, 3 km di coda in direzione Firenze tra Impoli e Montelupo, 1 km di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. E per lavori è chiusa anche l'uscita di San Miniato in direzione mare. In direzione Firenze per traffico intenso, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!